Siamo a un centinaio di metri dal cimitero comunale, ma siamo anche a 100 metri dal litorale d'Antalighieri, esattamente alle spalle di quello che è il mercatino del sabato. Quello che stiamo vedendo è uno spettacolo indegno che comunque si perpetra sempre. Qui dietro è un posto dove i rifiuti vengono lasciati come li state vedendo. Siamo passati stamattina e abbiamo con il nostro immenso piacere scoperto che c'è una task force del comune di Trapani con un camion più 5-6 moto A per rimuovere tutto questo. Ma basterebbe farlo ogni giorno e venire qui con un mezzo.